Ciao, sono Cristina Zaccagnino, ringrazio Davide Cavalieri per la nomination. Anche il mio secchio è vuoto perché non approvo e quindi non finanzio nessun tipo di ricerca che si vada sulla sperimentazione animale. E quindi invito a tal proposito ad unirsi a questa accordata Federico Facchini e Stefania Balzarotti. Grazie, ciao.